Musica Amici di Patrimonio Italiano TV siamo in Belgio e abbiamo fatto visita a un luogo di italianità e di cultura e anche ovviamente di cucina italiana appunto in Belgio, la libreria e il ristorante Semami andiamo subito a scoprirla anche dal vivo e a fare una chiacchiera con l'amica Mariangela Mincione Siamo praticamente in Italia perché siamo arrivati alla libreria e al ristorante Semami in Belgio e siamo in compagnia dell'amica Mariangela Mincione per un saluto da questo luogo magico che vi abbiamo fatto vedere a più riprese Mariangela allora un luogo di italianità e di cultura in Belgio, ne abbiamo già parlato in diverse occasioni però ecco adesso ci troviamo fisicamente qui e quindi ecco l'impressione che avevamo avuto dal web è proprio quella di un luogo molto accogliente e soprattutto molto italiano Sì, accogliente italiano sicuramente, noi tre, Serafino, Michele e Dio siamo italiani quindi abbiamo iniziato portando il nostro bagaglio io da editore e loro da persone che si sono sempre occupate di cultura Voilà, insieme abbiamo come sapete un ristorante e tanti eventi sono previsti fino al mese di giugno e poi si ripartirà a settembre con un festival della storia organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura e Sugar Pulp E allora proprio da qui da Semami, libreria e ristorante un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV da Mariangela Mincione Un saluto a tutti e veniteci a trovare, ciao, grazie